Sette candidati sindaco in campo per amministrare tre comuni dell'Ossola. A un mese dal voto nei centri di Villa d'Ossola, Calasca, Castiglione e Boianco si delinea la sfida del 10 giugno. Oggi la commissione elettorale ha esaminato le liste di simboli presentati nei tre comuni e stabilito per sorteggio la posizione sulle schede. A Villa d'Ossola, il centro più importante chiamato al voto, saranno 5.947 gli elettori. In corsa tre liste, quella dell'escapo gruppo di minoranza Bruno Toscani, quella con a capo l'ex vicesindaco Marcello Perugini e la terza di Sebastiano Mandica. A Villa si esce da dieci anni di amministrazione di centro-sinistra con una città in crisi dopo l'addio dell'industria e con tante aree dismesse ancora inutilizzate. Sulla scheda sarà questo l'ordine, primo Toscani, secondo Perugini, terzo Mandica. A Calasca, Castiglione, la sfida è a due. Ci sarà l'attuale sindaco, l'avvocato Silvia Tipaldi, che è al secondo mandato dopo essere stata eletta nel maggio 2013. Lo sfidante è Michele Bruno, ex carabiniere ora in pensione, che già era stato candidato 5 anni fa. Tipaldi allora vinse con un minimo scarto di 4 voti, 197 contro 193. Nel piccolo paese anzaschino, il 10 giugno, andranno a votare 621 elettori. Sulla scheda la lista 1 è Tipaldi, la 2 è Bruno. Poi Vognanco, dove si vota in anticipo di un anno, poiché il sindaco Remigio Mancini è stato sfiduciato. Nel paese delle 100 cascate voteranno 237 persone, chiamate ad esprimere fiducia a due candidati. Si tratta di Mauro Valentini, già in passato sindaco per 5 anni, e dello sfidante Sebastiano Danilo Failla. L'estrazione ha visto Valentini lista 1 e Failla lista 2.